Buon pomeriggio e ben ritrovati cari amici con il telegiornale di Taranto di Antenna Sud. In primo piano il Consiglio territoriale della UIM che si è tenuto questa mattina a Taranto. Lo Stato ci ha deluso, il suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia non ha cambiato nulla. Così in maniera dura si è espresso il segretario nazionale Palombè. Ascoltiamo. Noi speravamo che la presenza dello Stato all'interno del Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia fosse la garanzia per poter assicurare una prospettiva ambientale, produttiva e occupazionale. Speravamo che la presenza dello Stato nel Consiglio di Amministrazione di Acciaierie d'Italia portasse buone nuove in campo occupazionale, produttivo e ambientale. Ed invece la situazione continua ad essere ingestibile, ha detto Rocco Palombella, segretario generale UIM nazionale. Lo ha detto durante il Consiglio territoriale UIM tenutosi presso l'hotel Salina di Taranto. Da gennaio ad oggi non solo non è successo nulla, ma la situazione continua a peggiorare fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Qual è quindi il messaggio che lei porterà a questa Assemblea? Il messaggio sarà un messaggio molto determinato. Noi non permetteremo allo Stato, socio di una società così importante, di continuare a portare lo stabilimento allo spegnimento. Non si può continuare ad aspettare, vogliamo sapere le reali intenzioni del Governo. Prima dicevano di avere le mani legate, ora non più. Una situazione in totale devastazione sotto ogni profilo, mentre il Governo decide di autorizzare e regalare altra cassa integrazione fino al 31 dicembre in assoluta incertezza. La transizione ecologica diventa puro esercizio retorico, non c'è alcun indirizzo ambientale, sanitario, produttivo e occupazionale. Non saremo fermi e decideremo insieme alle altre organizzazioni e alle iniziative di mobilitazione. E a proposito di Exilva di Taranto, resta sospesa l'ordinanza del Sindaco sullo stop agli impianti dell'area a caldo a causa delle emissioni di benzene. Lo ha deciso il Tarra di Lecce, seconda sezione, con un'ordinanza depositata oggi dopo l'udienza di ieri. Il Collegio, si legge nel provvedimento, accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende in via interinale l'efficacia degli impugnati provvedimenti fino alla data di pubblicazione del provvedimento che sarà adottato dal Collegio a seguito dell'udienza del 26 ottobre 2023. Questa è infatti la data in cui si deciderà nel merito della vicenda. Andiamo avanti adesso perché Taranto è stata protagonista sotto un altro profilo, quello proprio della transizione energetica agli stati generali della bellezza che si sono svolti ad Andria. Nelle stesse ore in cui al Tar di Lecce si svolgeva la prima udienza sul ricorso presentato da Ciaierie d'Italia contro l'ordinanza del maggio scorso del sindaco Rinaldo Melucci che intimava il fermo dell'area caldo dell'Exilva in mancanza di interventi sulla riduzione delle emissioni di benzene. Taranto è stata protagonista ad Andria degli stati generali della bellezza. I sindaci d'Italia hanno sottoscritto una carta delle città della bellezza sancendo un patto che li vede uniti nel chiedere il pieno riconoscimento e l'integrazione della cultura e dell'economia creativa nei processi e nelle politiche di sviluppo con l'obiettivo di facilitare il raggiungimento dei gol dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Tutto si tiene insieme e acquisisce un senso per la nostra comunità perché la battaglia per superare un certo modello di sviluppo un certo modo di recare danno alla comunità fa il paio con il desiderio di quella comunità di emanciparsi di ricercare la bellezza. Taranto è una città meravigliosa che sta concretizzando tante opportunità che erano sulla carta da troppo tempo e sta investendo verso una nuova identità o un recupero di identità che è fatta di cultura, di turismo, di enogastronomia della sua risorsa amare. Siamo quindi qui a chiusura di una giornata che ci ha visti impegnati anche al TAR della Puglia, alla sezione di Lecce, come sapete, per l'ordinanza contro i picchi di benzina perché abbiamo da fare ancora una strada molto lunga ma Taranto si è rimessa in moto già da qualche anno il suo modello di sviluppo sta cambiando e la città è piena di numeri positivi, di esperienze importanti, di visitatori, di investimenti. È stato siglato questa mattina a Taranto un protocollo per contrastare il randagismo che vede collaborare ASL e tre comuni della provincia. Porre un argine ad un fenomeno crescente che in alcuni casi può rivelarsi pericoloso il randagismo di cani e gatti. Per questo hanno siglato un protocollo l'ASL di Taranto e i comuni di Massafra, Mottola e Palagiano. In collaborazione con la Polizia Municipale e i nostri operatori tecnici catturano questi cani randaggi e negli ambulatori dei servizi veterinari cani o anche felini vengono sterilizzati con tutte le cure e in maniera tale che poi possono essere rimessi sul territorio. C'è un progetto ancora più ambizioso cioè quello di valutare con i comuni e anche con le organizzazioni di categoria considerare la possibilità di dare in gestione questi cani che vengono curati e sterilizzati agli proprietari di masserie o comunque che vivono nelle campagne. I comuni hanno questa indisponibilità di risorse sufficienti per poter gestire questo fenomeno che molto spesso viene gestito a mani nude insomma si combatte contro un mostro e quindi questo è un grande strumento. Andiamo avanti con altre notizie che riguardano la cronaca perché le fiamme gialle di Taranto hanno individuato nei comuni di Taranto Massafra, Martina Franca, Castellaneta, Ginosa, Crispiano, Grottaglie, Manduria, Lizzano, Sava e Marugio 25 lavoratori in nero e stanno svolgendo approfondimenti per verificare la regolare assunzione di 87 altri lavoratori. Le presunte violazioni hanno interessato attività commerciali di diverso tipo tra cui agriturismi, aziende agricole e imprese edili. E adesso ci occupiamo di contrasto alla mafia. Oggi un confronto che ha visto l'organizzazione di libere e associazione nazionale magistrati. Democrazia e giustizia sociale per contrastare la criminalità organizzata. È stato questo il tema affrontato presso la biblioteca civica Clavio di Taranto dalle associazioni Libera, sezione Pugliese, nomi e numeri contro le mafie e il coordinamento provinciale di Taranto dell'associazione nazionale magistrati. Si è discusso di legalità democratica, di promozione della giustizia sociale per garantire i diritti delle persone e di etica pubblica. Abbiamo ascoltato Don Angelo Cassano, referente regionale di Libera Puglia. C'è il rischio dell'indifferenza, della normalizzazione del fenomeno mafioso e anche della corruzione, perché Libera combatte contro le mafie ma anche contro la corruzione. E quindi leggere oggi l'evoluzione che le mafie stanno avendo in chiave anche di interessi economici, una mafia che non fa più rumore ma che entra nel business, che entra nelle attività commerciali, che utilizza la sua forza economica che è ricavata dallo spaccio per poter investire. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo risvegliare la coscienza critica e Libera fa un lavoro educativo, culturale importante, un coordinamento di associazioni che mette al centro la memoria delle vittime innocenti, ma soprattutto a partire da questo l'impegno, perché se non c'è impegno, coraggio, partecipazione, io chiedo che le mafie trovano terreno fertile oggi. È stato presentato un libro su Anna Fuget, diva del Novecento, Tarantina, prima cantautrice della storia italiana. È stata una delle dive più acclamate della prima parte del Novecento, adesso la sua Tarantola riscopre con un saggio che svela particolari inediti. Anna Fuget, storia della signora della Bajur, il titolo del volume curato dal ricercatore Michele Ancona è pubblicato dalla casa editrice edita di Domenico Sellitti, un viaggio affascinante nella vita della prima cantautrice della storia italiana, dagli esordi ad otto anni al ritiro dalle scene avvenuto nel 1940. L'opera è stata presentata nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città. La cosa che più mi ha affascinato è stato i collegamenti che ci sono in tutta Italia, fondamentalmente, ed è una sottotraccia continua, un continuum che va scoperto continuamente e deve essere fatto con l'orgoglio di poter veramente dare a questo personaggio un risalto che merita. Noi ci siamo impegnati dal 2005 a promuovere la figura di Anna Fuget, perché è una di quelle figure note a livello internazionale, ma che stanno lentamente scomparendo dall'immaginario storico e culturale della nostra città. Abbiamo già dedicato una serie di pubblicazioni, opere di vario genere. Raccontare queste storie, le storie della nostra città, questi esempi positivi, sia fondamentale. Dobbiamo sempre di più essere legati a questi esempi. Con i fondi dell'Exilva provenienti dal piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto, la Giunta Comunale ha finanziato il progetto Mare Oltre le Barriere, che consentirà con un investimento di circa 60 mila euro di intervenire quest'anno sulle spiagge pubbliche di Lido Azzurro, Viale del Tramonto, Tramontone e Isola Amministrativa, attraverso l'installazione di nuove passerelle d'accesso per i diversamente abili. Adesso al Teatro Comunale Fusco, dove è stata presentata la nuova stagione teatrale realizzata in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Grandi produzioni, testi, autori classici, teatro contemporaneo, danza e comicità. La nuova stagione invernale del Teatro Comunale Fusco di Taranto, organizzata insieme al Teatro Pubblico Pugliese, è pronta all'addio. 11 spettacoli fino ad aprile, si parte 15 e 16 novembre con Lino Guanciale e Francesco Montinari con L'Uomo più crudele del mondo. E poi Alessandro Haber, Claudio Bisio, Giuliana Desio, Milena Vucotic e tanti altri con biglietti a partire da 30 euro e abbonamenti da 180 con riduzioni per giovani, anziani e non soltanto. Abbiamo aumentato la percentuale di presenza in sala con un pubblico pagante che raggiunge il 95,5% per la prosa e il 98% per la musica. Quindi sono numeri che ci fanno ben sperare per la prossima stagione. Possiamo individuare un target specifico? Parliamo di prosa importante, di titoli e compagnie molto importanti e anche ovviamente di attori e regie di livello nazionale. Quindi l'obiettivo è portare un pubblico anche più interessato, non solo quello dell'abbonato classico. Il pubblico più giovane è attratto ed è coinvolto da TikTok, da Instagram contenuti brevi, spesso la qualità lascia a desiderare. Anche se, notizia interessante, ce lo diceva il direttore poco fa, il Fusco è il primo teatro pugliese ad essere sbarcato su TikTok, però con l'idea di agganciare il pubblico e magari portarlo poi in teatro per un'offerta ben più alta. Sì, cerchiamo di essere al passo con i tempi, anche il teatro deve essere al passo con i tempi, cerchiamo di farlo, ma abbiamo anche qualche altra bella idea che mi piacerebbe poi sviluppare nella prossima stagione. Abbiamo cercato di tenere alto il livello e di creare un cartellone che fosse il più vario possibile, come dicevi tu, anche in qualche modo che coinvolgesse anche i più giovani. E' tutto per Taranto, tra poco il nostro telegiornale di Brindisi, restate con noi. Il telegiornale di Brindisi di Antenna Sud, ben trovati, basta competizione tra i porti pugliesi, bisogna fare rete. Così l'onorevole Salvatore Deida, presidente della Commissione Trasporti, della Camera, oggi a Brindisi, proprio per visitare il porto. Purtroppo in passato ci sono stati dei vetti che sono inaccettabili e su questo veramente dobbiamo aprire una parentesi, perché elettrificare le banchine non vuol dire portare inquinamento, ma anzi va nell'intenzione quello di dare la possibilità anche alla nautica e a tutto il settore marittimo di sviluppare quella transizione ecologica che fino ad adesso non è stato possibile. Basta competizione tra i porti, le infrastrutture pugliesi devono collaborare tra loro. L'onorevole Salvatore Deida, presidente della nona Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, a Brindisi per visitare il porto e incontrare all'autorità portuale il presidente Ugo Patroni Griffi. I porti di una stessa regione non devono farsi concorrenza l'un con l'altro, ma si devono sviluppare insieme, soprattutto anche differenziando quello che è l'offerta e sfruttando la geopolitica. Io per esempio avrò l'onore anche di curare i rapporti con l'Albania e dobbiamo riallacciare maggiormente i rapporti quello che è il traffico passeggeri anche dal punto di vista turistico e anche delle merci, visto che l'Albania sta sviluppando una portualità che non deve essere vista come in concorrenza con l'Italia. Successivamente, vertice alla torre di controllo ENAV. I lavoratori stiano tranquilli, ha detto il deputato, questo posto non si tocca. Ci siamo preoccupati di venire qui e far venire con noi i vertici dell'ENAV, i nuovi vertici dell'ENAV dal presidente all'amministratore delegato proprio per chiarire che non ci sarà nessun trasferimento forzoso di personale, non ci sarà sicuramente dimensionamenti delle mansioni, ci sarà una nuova prospettiva. La torre di controllo remoto è una prospettiva futuristica che aumenterà la sicurezza, che può essere una prospettiva che non deve essere vista come un qualcosa che toglie competenze e toglie importanza a Brindisi, ma Brindisi è la prima città che sviluppa questo tipo di controllo. All'inizio della giornata la visita al battaglione San Marco per portare i saluti del governo e rendere omaggio ai militari. Voltiamo pagina, parti prematuri dirottati da Brindisi a Lecce, ginecologi e pediatri spostati da Francavilla a Brindisi, la strategia regionale per fronteggiare la carenza di medici negli ospedali di Brindisi e provincia. Non è emergenza di più. La carenza di medici ha portato il Dipartimento regionale a consigliare all'ASL di Brindisi di formalizzare la prassi di trasferire le partorienti sotto la 34esima settimana dal Perrino al Vitofazzi di Lecce, ma anche di spostare di peso al fine di consentire la copertura dei turni dei reparti e il funzionamento dell'utin, i pediatri e i ginecologi del Camberlingo di Francavilla all'ospedale Perrino. Sembra insomma aggravarsi la prognosi per la sanità pubblica in provincia di Brindisi mentre si attende entro luglio la nomina del nuovo direttore dell'ASL da mesi commissariata. Ecco che con una nota firmata dal direttore del Dipartimento Vito Montanaro viene messa nero su bianco la strategia evidentemente emergenziale per superare l'assenza ormai cronica di medici. Si aggiunga l'estate, quindi le ferie e il gioco, ovvero il danno è fatto. Il già sospeso reparto di ginecologia e ostetricia del Camberlingo viene così praticamente smantellato, senza contare il ridimensionamento della pediatria, ne fatti accorpata, quella del Perrino. Infine i prematuri dirottati a Lecce da Brindisi perché dirottato sembra pure il diritto alla salute con terapie insufficienti per curare una sanità pubblica provinciale sempre più malata. Forze politiche Brindisi ne escluse dalla sanità e questa è l'accusa lanciata dal segretario provinciale di azione Raffaele Pappaga. Sanità al collasso nel Brindisino con reparti accorpati, chiusure e servizi a singhiozzo per mancanza di personale. Una situazione di caos che riguarda l'ospedale Perrino di Brindisi, il Camberlingo di Francavilla e l'ospedale di Ostuni. Azione stigmatizza il fatto che nessuno a livello provinciale ha mai coinvolto le forze politiche del Brindisino. Non è una proposta che potrebbe risolvere però sul campo abbiamo messo un'idea cosa che invece dagli altri parti non c'è. Riprendo l'organo di stampa di stamattina dove la CGL abbiamo fatto un comunicato appositamente sembra che abbia invitato una parte politica e non altra e la cosa un po' ci dispiace perché sulla sanità credo che non ci siano parti politiche ma dobbiamo esserci tutti. Azione punta il dito sul mezzo milione di euro che hanno intascato gli otto direttori generali della sanità polliese. Somme dovute ma per azione non è chiaro il metodo di valutazione. Noi come azione cerchiamo di entrare nel merito della questione e diciamo che Azienda Zera che è la proposta anzi il disegno di legge fatta dal commissario Fabiano Amati tende a porre sul tavolo la possibilità di risolverlo ma dalle altre parti da Emiliano e da Valese questa volontà di risolvere il problema non c'è. Devo far notare purtroppo con mio rammatico dagli organi di stampa che invece viene portato l'attenzione dei tanti cittadini del Brindisino dove il direttore Asra si sono divisi 500 mila euro di fondi per quanto concerne premi di produttività che in questo momento non contesto la legittimità ma l'opportunità di dividersi determinati soldi vista che la sanità pugliese l'arma dei carabinieri tiene tanto a ricordare questo suo figlio che come ricordavamo 23 anni fa quel maledetto 14 luglio del 2000 perse la vita e perse la vita proprio per cercare va bene di difendere dei cittadini Viva il maresciallo Dimitri viva l'arma dei carabinieri viva l'Italia da Francavilla Fontana la legalità ha voluto lanciare un urlo sommesso un grido educato lo ha fatto nel ricordo di Antonio Dimitri maresciallo dei carabinieri impegnato nell'operazione primavera che quel pomeriggio del 14 luglio di 23 anni fa perse la vita sotto la raffica di colpi esplosi da una banda di rapinatori in azione nell'allora banca commerciale italiana la vetrata di un bar per scelta dei gestori ha mantenuto visibili quei segni terribili eppure preziosi nella conservazione della memoria collettiva questa è tutti gli anni anche l'occasione per rinnovare un senso di gratitudine però nei confronti dell'arma dei carabinieri perché rappresentano un presidio di legalità qui a Francavilla che per noi è rinunciabile il maresciallo Dimitri antepose la vita degli altri alla sua non sparò per preservare gli ostaggi pagando un prezzo alto il più alto possibile nella piazzetta che orgogliosamente porta il suo nome il ricordo di Dimitri è vivo forte e sincero sotto lo sguardo commosso del fratello Raffaele una breve ma intensa cerimonia unito la comunità francavillese con le istituzioni civili militari e religiose il gesto eroico mi piace sottolineare come sia patrimonio della comunità francavillese in particolare ma non solo è patrimonio di tutta la nazione e di tutti coloro che ogni giorno con sacrificio con impegno con costanza si dedicano alla comunità tutti quei carabinieri ma tutte quelle persone insomma ecco rappresentanti dello Stato che ogni giorno si dedicano alle comunità va bene affidateli proprio per affermare sempre di più quei principi di legalità e giustizia che l'eroico gesto di Antonio Dimitri insomma ci riporta alla memoria Brindisi avrà il suo polo universitario lo assicura l'assessore regionale al ramo Leo che specifica vogliamo far restare qui i nostri giovani L'iter per la realizzazione del nuovo polo universitario a Brindisi prosegue nei giorni scorsi c'è stata l'approvazione delle tre determine dirigenziali per disciplinare l'incarico per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità di tre dei lotti che compongono il progetto il più importante che dovrebbe essere la sede centrale l'edificio dell'ex ministero delle finanze e agenzie del territorio intanto la regione spinge su questa iniziativa Brindisi merita tanto Brindisi è una città che è stupenda tra le altre cose straordinaria con il porto più bello secondo me d'Italia noi anche con l'offerta formativa con questa cittadella pensiamo che diciamo investire sulla cultura sull'istruzione vuol dire non solo aiutare diciamo la nostra città di Brindisi da un punto di vista sociale ma anche come sviluppo economico gli altri lotti compresi nel progetto sono l'ex istituto ragioneria Marconi di via Maglie da destinare a mensa universitaria la chiesa del Cristo da destinare al luogo di culto e per i servizi culturali e l'edificio della croce rossa italiana sezione di Brindisi da destinare a centro sanitario e postazione primo intervento del 118 sì i nostri giovani devono rimanere la nostra offerta formativa in Puglia è eccellente anche i nostri giovani lo sono il ricordo delle vittime del lavoro nei campi passa anche da Oria 30 anni fa pianse la morte di Antonia Carbone Maria Marselle Maria dell'Aquila non solo Paola Clemente l'operaia agricola allora 49enne morta di fatica il 13 luglio 2015 nelle campagne di Andria mentre era al lavoro in un vigneto ad Oria il ricordo delle vittime del lavoro in campagna passa anche e soprattutto attraverso il sacrificio di Antonia Carbone Maria Marsella e Maria dell'Aquila che 30 anni fa in estate trovarono la morte sulla strada per quei campi di fatica sudore diritti negati si stanno cercando di trovare soluzioni idonee per quanto riguarda il trasporto e il collocamento del personale agricolo che appunto non è semplice in quanto proprio in agricoltura il comparto prevede che domani si deve raccogliere la frutta e oggi stesso quindi bisogna che sia il collocamento del personale cosa che purtroppo i centri dell'impiego non funzionano e quindi le aziende si rivolgono molto spesso ai caporali la nostra presenza qui è segno tangibile del nostro impegno forte impegno innanzitutto a non dimenticare a non abbassare mai la guardia ma anche ad attuare tutte quelle iniziative possibili per poter arginare per contrastare per ridurre e vincere quello che è il fenomeno il triste fenomeno del caporalato a Doria c'è un monumento a ricordarlo lì dove la Flai CGL e la Camera del Lavoro hanno deposto una corona di fiori e di quei ricordi di chi conosceva le tre braccianti di chi oggi racconta la vita nei campi i progressi la lunga strada da fare beh è cambiato che dal momento in cui c'è stato l'incidente c'è stata molta movimentazione da parte dei sindacati molte lotte da parte loro e quindi praticamente insomma si è riusciti ad avere almeno il posto uno ciascuno non essere ammassati nei mezzi di trasporto ed avere un mezzo un po' più adeguato per arrivare al posto di lavoro non già stanchi ma diciamo dignitosamente ecco perché magari è sempre uno sgomitare per arrivare ad avere altri diritti che dovrebbero essere leciti senza chiederli dovrebbero essere diritti e basta E tutto anche per Brindisi tra poco il telegiornale di Lecce Antena Sud News a Lecce ben trovati allora in primo piano c'è la nuova bufera che si abbatte sulla famiglia Mazzotta sequestrati 12 milioni di euro dai conti delle società del consigliere regionale Paride del padre Giancarlo l'ex sindaco di Carmiano in esclusiva le parole di Giancarlo Mazzotta che si dice fiducioso nella giustizia ma nutre anche qualche dubbio sui tempi delle ordinanze nuovamente bufera sulla famiglia Mazzotta al centro il consigliere regionale Paride e il padre Giancarlo si parlerebbe di società collegate secondo l'accusa da rapporti di fatturazione non veditieri una rete familiare che per la procura e per il GIP vedrebbe al vertice l'ex sindaco di Carmiano e l'imprenditore Giancarlo Mazzotta per la quale è stato emesso nelle scorse ore un decreto di sequestro preventivo per l'equivalente di somme per complessivi 12 milioni di euro il fascicolo è del PM Donatina Buffelli le indagini risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2019 raggiunto telefonicamente Giancarlo Mazzotta si dice sereno ma dubbioso in merito ai tempi nei quali è stata emessa l'ordinanza ripongo e riponiamo piena fiducia nell'operato della magistratura credo che tutti quanti noi siamo desiderosi di accertare la verità io personalmente sono sereno consapevole come sono di aver operato sempre nella massima correttezza e trasparenza si testa diciamo qualche perplessità sulla tempistica del provvedimento del GIP atteso che questo provvedimento era stato invocato della procura oltre un anno addietro in un momento in cui tale richiesta aveva una sua dignità invece il GIP forse non tiene conto dell'aggiornamento intervenuto medio tempore che sicuramente insomma ha contribuito in maniera diciamo sostanziale forse in alcuni casi a cambiare il quadro indiziario iniziale e questa è la nostra amarezza rispetto alla alla vicenda adesso parliamo di polizia penitenziaria le organizzazioni sindacali unite in un unico cartello nel penitenziario leccese da oltre 5 mesi hanno intrapreso un percorso di forte protesta contro l'inerzia e la cattiva efficienza dell'intero sistema penitenziario dal gennaio ad oggi hanno attuato svariate iniziative di sensibilizzazione ai problemi esposti innumerevoli interventi pistolari verso le più alte cariche istituzionali delegate alla giustizia e verso tutti gli organi politici si tindi protesta denunce su emittenti televisive nel mese di marzo grazie ad un'argomentazione parlamentare messa in atto nei confronti del capo del DAP pensavano che qualcosa dei vertici si fosse mosso ma secondo i sindacati sarebbe arrivata l'ennesima delusione grave secondo i sindacati inoltre l'ultima contrapposizione dei vertici dell'amministrazione penitenziaria risalente a pochi giorni fa con una disposizione ministeriale che ordinava il trasferimento dall'istituto di Lecce di circa 50 detenuti e che invece è stata revocata tante purtroppo le situazioni di emergenza negli ultimi mesi senza contare il rischio per la sicurezza territoriale che insieme a quella intramuraria è sempre più aggravata dalla disarmante carenza del personale le argomentazioni portate in evidenza in questi ultimi mesi riguardano inoltre violazioni di vario genere dai diritti negati al lavoratore alla costrizione al lavoro straordinario dalla mancata equità e pari opportunità tra il personale in servizio al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio e molto altro una situazione secondo gli agenti che starebbe portando stessi all'esasperazione preghiere e striscioni per Francesca Gallipoli si stringe attorno alla donna che lunedì scorso è caduta dal balcone di casa ed è ricoverata in rianimazione preghiere e messaggi di affetto tutta Gallipoli e con il fiato sospeso per Francesca la donna di 42 anni che lunedì è precipitata da un'altezza di circa 10 metri dopo che un pezzo del parapetto del balcone al terzo piano del suo appartamento situato in un residence di Corso Italia si è staccato mentre stava facendo rinfrescare dei cuscini in casa c'era il figlio di 4 anni soccorso dal marito un militare della marina rientrato dal lavoro una volta appresa la tragedia la donna è ancora ricoverata in ospedale in terapia intensiva in gravi condizioni e lotta per la vita in attesa di un timido segnale di ripresa la città si ritrova spesso in preghiera accogliendo i vari appelli e inviti che vengono lacciati sui social Francesca è una donna ben voluta e lo dimostrano anche i tanti messaggi di affetto come uno striscione affisso nel centro storico con su scritto forza fra veglie di preghiera recite di rosario gruppi di cittadini che si riuniscono per affidare a Dio le sorti di Francesca il marito intanto che aspetta pazientemente dietro la porta della stanza dell'ospedale ringrazia tutti per l'affetto e l'incoraggiamento che sta ricevendo e sono quattro pochi ma buoni stai tranquillo e fai con calma amore mio non ci porta di fretta nessuno è uno dei tanti post che il marito ha scritto su facebook lui è sempre lì fuori dalla stanza della rianimazione pronto ad entrare appena la moglie si risveglierà intanto la prognosi di Francesca resta ancora riservata restiamo nella città bella dove non si plavaccano le polemiche riferite ai passi in deroga rilasciati dal sindaco per l'accesso nella zona ZTL il sindaco o l'assessore al suo insindacabile testuali parole il sindaco o l'assessore al suo insindacabile giudizio può rilasciare passi in deroga passi in deroga ne sono stati rilasciati per quest'anno 737 non si placa la polemica di Flavio Fasano sui troppi pass auto rilasciati dal sindaco di Gallipoli Stefano Minerva per l'accesso alla ZTL il consigliere di Gallipoli Futura ha presentato un'interrogazione urgente chiedendo al primo cittadino la disapplicazione per autotutela dell'articolo che prevede a favore del sindaco la possibilità di rilasciare a suo insindacabile giudizio i pass per il centro storico a persone non residenti e non esclude l'ipotesi di un eventuale ricorso al TAR abbiamo fatto un'interrogazione dicendo al sindaco noi andremo al TAR e il TAR per regolamenti abusivi illegittimi come questo perché guardi esiste una norma generale nella pubblica amministrazione che parla di trasparenza equità nel fare l'azione amministrativa l'80% di quei pass rilasciati in deroga sono pass permanenti che coprono l'intera durata della zona ZTL dal primo aprile fino al 31 ottobre noi chiederemo al TAR la disapplicazione di questo regolamento Aveglie 12 comuni sarintini in riunione presso la sede del GAL D'Arneo per stilare la nuova programmazione Presidente un incontro importante quello che si è appena concluso qui presso la sede del GAL con 12 comuni per valutare le nuove strategie Sì è un momento molto importante perché la nuova programmazione in base al bando che la regione Puglia ha emanato qualche giorno fa con scadenza 16 ottobre mette in risalto e in rilievo la necessità di un ascolto soprattutto dal bus BOTNAP e le civiche amministrazioni per noi diventano punto di riferimento strategico insieme a tutte le organizzazioni dei produttori e insieme a tutti i portatori di interesse afferenti al gruppo di azione locale della D'Arneo noi ci avvaliamo anche del supporto dell'università di Lecce con il professore Stefano De Rubertisi e stiamo cercando di leggere il territorio ancora nelle tipicità ma soprattutto nelle diverse sfaccettature cercando di analizzarlo in una sorta di analisi svolto per cercare di scrivere una bella nuova pagina che vada in continuità delle tante belle azioni svolte da parte del Gale del Radarneo in 26 anni di attività cercando di creare ulteriore e spazi per uno sviluppo sostenibile ma soprattutto condiviso è stato un vero e proprio cerchio della fiducia della programmazione quello che ha visto la partecipazione di 12 comuni salentini presso la sede del Gale Terler Arneo per programmare e scrivere la nuova programmazione parte dall'ascolto dei sindaci il presidente Cosimo Durante cioè da coloro che più di altri possono condividere interessi e dare spunti nel corso degli incontri saranno identificati due punti tra sei proposti dalla regione Puglia in particolare con questo Gale ci sono già state delle forme di collaborazione anche intensa che peraltro credo abbiano gettato le basi anche conoscitive che potranno essere utilizzate in questa fase di costruzione della strategia per il prossimo periodo di programmazione cultura dello sport e tradizioni il senatore Marti che presiede la settima commissione sport e cultura vuole riprendere la tradizione dei giochi della gioventù riportare in Puglia non solo i giochi della gioventù questa nuova sfida del senatore Roberto Marti presidente della settima commissione al senato ripareremo tra pochissime ore i giochi della gioventù dal 1968 non c'erano più in Italia e con legge diciamo dello Stato transitata già alla fine del percorso nella mia commissione nella settima commissione sport e cultura del senato e arriverà in aula credo prima dell'estate per averlo l'anno prossimo il ministero della pubblica istruzione il ministero dello sport il ministero dell'università hanno siglato insieme anche al ministero delle disabilità questo protocollo di intesa su questa legge già presentata dalla scorsa legislatura ma che ha visto la luce adesso e a nostra prima firma sono relatore ed è un modo per rievocare qualcosa del passato che era di tradizione ma che fa seguire delle regole dei principi dell'identità ai ragazzi e che li conduce a fare qualcosa di utile di importante anche di bello perché non è la scuola solo studio solo abnegazione è diversivo parto per bene e questo può condurre diciamo in quel percorso di società che deve essere completato con l'aiuto di tutti seguito con l'aiuto di tutti quindi questa oggi è il mondo sindacale che incontra le istituzioni di ogni ordine e grado che incontra i vertici delle forze dell'ordine che parlano di sicurezza e di come si debba condurre il cittadino verso la sicurezza e verso la prevenzione è tutto per le notizie anche dal Salento grazie per la vostra attenzione adesso come sempre ci sarà il TG Sportivo rivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sub più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on the menu da qualsiasi dispositivo di Puglia e Basilicata grazie a tutti i nostri programmi